Come vive l'occupatus? L'affazionato, l'alienato. L'occupatus non ha né tempo né voglia di ricordare il passato, lo dimentica perché lo hanno malimpiegato e ne temono la memoria. L'occupatus ha un rapporto malsano con il tempo. Il passato lo dimentica perché lo turba, il presente lo trascura perché è affannato e diviso da molte occupazioni e il futuro, il futuro peggio ancora, è l'oggetto del timore e del desiderio che ti fa perdere la tranquillità. L'occupatus non vive, sta al mondo. Il sapiens invece conosce, per dirla con agli, l'esistenza autentica. Cosa fa? Rispetto al passato, è passato il tempo, transe, lui lo blocca col ricordo. Urge il presente ne usa, uditur, sta per venire denturum est, precipit, precapit, lo pregusta. La concentrazione di tutti i tempi gli fa lunga la vita, la conlazio in unum omium templo, la concentrazione. Il sapiens non è confinato negli stessi limiti degli altri. Lui solo è libero dalle leggi dell'umanità. Tutti i secoli obbediscono a lui come a Dio. Sapiens solus generis humai legibus solbitu. Lui è sciolto. E solutus legibus. Il tempus è l'area espreziosissima, la cosa più bellissima. È solamente il tempo nostro. Noi abbiamo un unico possesso, un'unica ricchezza, l'unico capitale che è il tempo. Tempus tantum, tantum, è vero. Solamente il tempo nostro è nostro.